Cari amici di Letture Metropolitane, ho il piacere di raccontarvi il bellissimo concerto di Teo Teardo e Blixabargeld tenutosi il martedì 19 novembre all'Asienda di Roma. Ho avuto il piacere di vedere il concerto in primissima fila accanto a due amici molto stretti, benché di diverse generazioni, che saluto Lorenzo Ceccotti, il grande artista visuale LRNZ, che mi iniziò agli istruzziando il gruppo di cui Blixabargeld è leader nel lontano 92, e il più giovane ma ugualmente caro e geniale Luca Maresci, di cui abbiamo parlato più volte per l'omaggio pubblico che gli fece Nick Cave in uno storico ormai concerto al Palaeuro di Roma. Detto questo, il concerto non ha deluso le aspettative, come ho anche detto del concerto dell'Istituzione di Noi Borden all'auditorio, un parco della musica di circa un mesetto fa. È molto bello poter vedere un artista così particolare come Blixabargeld al vivo due volte in breve tempo, pur con dei repertori differenti. Io ora non mi dilungherò in una trattazione enciclopedica delle carriere dei due autori, visto che comunque sono ampiamente conosciuti e soprattutto i mezzi a nostra disposizione consentono in un click di approfondire le carriere di entrambi. Vorrei parlarvi piuttosto dell'emozione che questo concerto ha comunicato, anche perché erano otto anni sostanzialmente che non suonavano insieme, o meglio, il disco precedente, nerissimo, era del 2016 e questo nuovo disco che si chiama Christian e Mauro, ovvero i nomi di battesimo dei due artisti, riprende quel discorso musicale che ora brevemente affronteremo e introdurremo e lo porta, secondo me, a un livello di ulteriore maturazione. Diciamo che lo sposalizio artistico tra questi due artisti è benedetto da una differenza temperamentale ma da una vicinanza sonora, nel senso che in un certo senso Teo Teardo è famoso per le sue colonne sonore, oltre che per i suoi dischi solistici, per le diverse collaborazioni, ha come distintivo elemento di riconoscimento questa capacità di mettere in scena dei crescendo musicali che è come se prendessero la semplicità martellante del ritmo punk portata però sulla complessa ricchezza melodica della musica classica, non so se mi sono spiegato ma basta ascoltare un brano per capire a cosa mi voglio riferire, e questa grande capacità di Teo di creare questo basso musicale che cresce come una marea, non solo si ritrova ovviamente in maniera diversa in alcuni brani degli istruzioni di noi boden, pensiamo a The Garden per esempio, ma è perfettamente in equilibrio con la teatralità declamatoria e istrionica di Blixabargel, Blixabargel per chi non lo conosce, beati voi che ancora non lo conoscete così potete scoprire nella genialità e il carisma, è stato non solo il fondatore degli istruzioni di noi boden, ma anche pilastro dei Bad Seeds di Nick Cave nella fase diciamo storica degli anni 80 e 90. Ma diciamo che in questa sua fase ormai matura di performer appare, se mi consentite una battuta, qualcosa di molto originale ma se vogliamo a metà tra Carmelo Ben e Marlene Dietrich, nel senso che ha questa provocatoria teatralità e questa meravigliosa arte nel porgere i versi che tra parentesi lui declama mescolando varie lingue, attraverso la collaborazione con te abbiamo scoperto anche la sua fascinosa pronuncia in italiano che poi diciamo ispira il primo brano famoso dalla loro collaborazione che è Mi Scusi in cui lui ironizza appunto sulle espressioni più immaginose della lingua italiana e sulla sua pronuncia teutonica, ma appunto come testimoniano in alcuni brani bellissimi degli istruzioni di noi boden che hanno ispirato al citato Lorenzo Ceccotti anche un personaggio verso la fine degli anni 90 ripreso in una recente illustrazione cioè Blume, questo brano Blume viene cantato in varie lingue da Blixabaghet ma anche da diverse cantanti di diverse lingue. In particolare questa armonia si trova anche sul palco, questa armonia discordante, questa concordia oppositorum perché Teo è con una attitudine compassata e quasi meditativa, si vede armeggiare con questi strumenti elettronici, sia elettronici che acustici, a volte da lui costruiti in maniera molto fantasiosa e crea questi tappeti sonori e questi crescendo travolgenti, mentre appunto Blix al centro del palco come un istrione della Berlino. Contemporaneamente sia degli anni 30 e degli anni 70 incanta, incanta il pubblico col suo carisma. I due sono accompagnati in ogni data da un quartetto d'archi diverso, preso diciamo proprio dai musicisti della città dove suonano, ma hanno come fedeli accompagnatori in questo tour e anche in passato, in alcuni casi, almeno così io ricordo dal vivo. Sono accompagnati da due musicisti a me molto cari, Laura Bisciglia al violoncello, presenza già di per sé eratica sul palco e il grande Gabriele Cohen, a cui mi hanno un saluto. Gabriele Cohen è un musicista jazz e klezmer di altissimo prestigio internazionale, è stato fondatore di un gruppo storico negli anni 90, cioè i klezmer, che appunto nel momento in cui la musica balcanica prima degli strali di Elio era diventata diciamo improvvisamente popolare, il klezmer appunto è la musica della tradizione ebraica dell'Europa dell'Est, con delle possibilità di improvvisazioni jazzistiche, delle variazioni veramente di grande suggestione e Gabriele Cohen è anche insomma un collaboratore, una persona di cui dischi sono stati prodotti da figure come John Zorn e che è dedicato anche in passato dei dischi alla Kabbalah, alla Porta Magica, insomma per chi mi conosce potete intuire il grande legame che ho con questa figura e quindi Gabriele Cohen al clarino basso, la rabbiceglia al violoncello, un quartetto d'archi che crea queste meravigliose variazioni su questo crescendo, questo basso continuo in crescendo composto da Teodeardo e il concetto si è dipanato con i due autori che hanno pescato nei loro ormai quattro dischi più un EP con queste composizioni così particolari e con le liriche di Bargeld che riescono ad essere al contempo ironiche, surreali, poeticamente tragiche e uno dei momenti più commoventi del concerto è stato sicuramente la versione di quella che è nota come Passacaglia della vita nella versione di Branduardi o Passacaglia in quella di Franco Battiato il cui ritornello bisogna morire è un po' un monito se volete non di ottimo auspicio ma che in realtà nell'interpretazione di Bargeld e nella reinterpretazione di Teodeardo, tra ventesi Teodeardo in un'intervista ha detto che Ennio Morricone gli aveva consigliato di comporre una Passacaglia, quindi questa versione, questa reinterpretazione teardiana è un fondo, un omaggio o comunque un ringraziamento all'indicazione del maestro Morricone. Ecco, Blixabaglia da un lato incarna l'avanguardia, anche dal punto di vista teatrale, dal punto di vista del rumorismo sonoro, dal punto di vista della trasgressione concettuale, questa alchimia tra la semplicità potente del do it yourself, il grande mantra punk, la raffinatezza di questo arrangiamento classico con queste suggestioni Jets e Klesmer di Gabriele Cohen e questa prorompente, ipnotica teatralità di Blixabaglia hanno fatto sì veramente che il concerto sia stato uno dei più capaci di incanto, almeno a mia memoria, degli ultimi anni e devo dire che l'accoglienza del pubblico, calorosa ma anche molto composta, perché c'è anche questa doppia anima in una operazione artistica di questo genere, cioè da un lato c'è la raffinatezza dell'ascolto di una musica quasi da camera, dall'altro però c'è anche il trasporto di un concerto punk più che rock. Questo contrasto continuo risolto appunto nell'armonia sia poetica che musicale dai due autori è il motore dialettico di un divenire artistico e compositivo di questo flusso sonoro che è sicuramente tra le pagine più interessanti della musica contemporanea.